La Regione ha riallocato presso le province le funzioni inerenti, la vigilanza in materia di caccia e pesca perché queste funzioni erano prima di competenza provinciale, però il legislatore ha stabilito nel riordino delle funzioni che rimanessero in capo alle province le funzioni relative alla materia ambientale e al codice della strada mentre invece passasse alle regioni quelle relative alla vigilanza della caccia e della pesca. Abbiamo preferito mantenere il corpo di polizia provinciale che invece passando in Regione sarebbe venuto meno perché la Regione non può per costituzione avere o attribuire funzioni di pubblica sicurezza per cui a questo punto abbiamo preferito mantenere un presidio importante sul territorio lasciando l'esercizio di queste funzioni in loco, cioè presso le province, i territori provinciali come finora era avvenuto tramite una convenzione che sarà stipulata dalla Giunta con la provincia dove saranno contenuti i vari dettagli e saranno ben sviscerate varie questioni che sono emerse e che tentiamo di migliorare ad ogni occasione per far sì che questi servizi siano più cogenti, più importanti, fatti al meglio sul territorio per una ricaduta migliore. Grazie. 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 Grazie.